E' la casa dei sogni remix! E' finita! La bacheca dei sogni, che ne dite? Uh, notevole! Sì! Forte! Sì! A proposito, Barbie, anche questa stanza è da sogno! Vero? Vi presento la stanza rosa! Cioè, ovviamente è tutto rosa. È rosa nel senso di... resilienza. Ottimismo, sincerità e affetto. Tutte virtù che mi piace rispettare. Sì! Wow, grandioso! E per la bacheca dei sogni ci vuole un posto da sogno. Ah, cosa serve, scusa? Tipo quando sogno di temperare le matite, ma quello è un sogno noioso! No, Chelsea, direi che è proprio il contrario. È una bacheca in cui puoi attaccare tutti i tuoi sogni più elettrizzanti, per poi lasciarti ispirare. Sulla mia ci sono le foto di chef e artisti, perché a me piace cucinare e essere creativa. Wow! Sulla mia c'è una fiorista perché a me piace fare giardinaggio. Uh-huh! E sulla mia ho messo un veterinario e un guardiano dello zoo perché io amo gli animali. Su, mangia piccolo, basta guardarti intorno. Eh, Ken? Oh, ops! A volte mi faccio prendere troppo dai sogni. Dalla mia bacheca si capisce quanto mi piace l'arte del make-up. Jessie, che ne dici di realizzare il tuo sogno proprio adesso? Con il fai-da-te! So perfettamente come renderci tutti brillanti come i nostri sogni. Con il glitter roll-on! Sì! E poi! Forte! Io speravo in un gelato, ma va bene. Mescoliamo il glitter da make-up con l'aloe vera. Wow! Bello! Poi, con un contagocce, lo inseriamo in un flacone roll-on. Ah! Wow! Sì! E così potete applicare facilmente qualche striscia brillante come il vostro futuro. Mi piacciono i sogni che brillano. Uh-huh! Non è mai troppo presto per pensare ai propri sogni. Allora io sono in ritardo. Beh, datti da fare, Chelsea. Recupero subito portando la bacheca dei sogni a un livello più alto. La festa dei sogni! Buongiorno, amici e futuri soci in affari. Possiamo dare inizio alla festa dei sogni! E qui abbiamo una pilota. Per fare questo lavoro bisogna essere molto concentrati. E via che si va in cielo! Sì, ragazze! Ora sfiliamo in passerella! E qui abbiamo una musicista. È un bel lavoro se siete appassionate. Uh-huh! Che belli stivali! Con il portatile e la 24 ore, quella che vediamo ora è un'imprenditrice. Wow! E adesso è il turno di una donna che costruisce case. Forte come una roccia! Letteralmente! Veloce e premurosa! Questa è una dottoressa! Fantastica! Wahoo! Buon lavoro a tutte quante! Oh, io provo a fare i miei amori! Allora, adesso ti senti più sicura di quello che sogni, Chelsea? Oh no, Barbie! Sono più confusa di prima! Ci sono migliaia di scelte! Non ho proprio idea di quello che vorrò fare da grande! Chelsea, va bene così. Vieni con me! Nemmeno io so che cosa farò da grande. Guarda, potrei fare l'infermiera. O forse no. Ma nel frattempo questo mi fa pensare che posso dare assistenza anche adesso. Non c'è bisogno di aspettare di essere adulta. Oppure, guarda qui. Sulla bacheca ho messo una guida forestale. Forse non diventerò mai una guida forestale, ma... Mi serve per ricordare quanto sono importanti le avventure. Uh, caspita! Un cerbiatto! Uh, e così nemmeno tu sai che cosa farai da grande! No, ogni tanto è bene domandarselo. Ma se l'idea di quello che farai non è chiara e ti fa sentire persa, allora chiediti chi sei adesso. Un giorno potrei diventare designer di moda. Ma per ora so solo che la moda mi piace. Visto che outfit... Io adesso amo gli animali. Anche se magari non diventerò mai veterinario. Allora non si tratta di decidere che lavoro farò nel futuro, ma di vivere il proprio sogno e imparare qualcosa ogni giorno divertendosi. Sì, e indipendentemente dal lavoro che farai da grande, questo non cambia. Per cui, Chelsea... Continua a sognare! So you start by putting the red... Wow! Be together. Group shot!